Incidente mortale, eri notte, a ora desardose mesi in suo camino in Trisumasu e a Semini. Su morte, eri notte, eri notte, a ora desardose mesi in Trisumasu e a Semini. A primordechide e sultimo custizio desorministros innantir desarferi a suministro Adolfo Urso, adovia libera a San Normas che regola nasosprezzi or desorbillette esproso scullegamento or desardigne Sicilia, che in sa proposta di proibire prolezze sempre o desalgoritmo che va a chiedere a tariffa aerea conforme a sa richiesta di una tratta precisa. Sa amministradore delegato di Ryanair e di Wilson ha definito il provvedimento ridicolo, sottolineando chi sa legge spodere mudare ma nemmorlo scostringe e tabolare in sas isolas. Urso ha tamentato, sa zun di chi porta a schisa compagnia è stata condannata, però non è rispettato, sa regola di un mercato europeo. Sa Sardegna pro Ryanair è una miniera di oro, pezzi in sa tratta pro Castello in secchi annoso ha trasportato 22 milioni di passeggeri e sin dopo di un'annanghera, a terra ordeche di milioni, si si considera sa tratta pro Salighiera, cominciata a primordi su Duomizza. Però un uva turau, chi contande? Un'eurebia di azudu regionale arrivata a meso miliardo di euro. Musica, ballo, si spazio e so scoette, il Castello d'Uzardo è pronta a dare il benevenio a turisti e a casazzare i residenti in questo tardio del mese agosto. Hanno a essere tre tardi del spettacolo, chi Maria Giovanna Kerch e sa cantante colombiana Carolina Marquez intretto a sattare al bella scosa di viere. A dispetto del aumento dei sosprezzi e del tempo urmezzano, sa città del desordore e a chi sa bellezza del panorama, si conferma tu non loco apprezza o meda da esosturista, schiziano, italianos o estranzos. E di fattisi non beh spezzi su mare e si spiaggia, ma vince all'occor del valore storico e culturale manno che ha su Castello d'Esordoria. Deghe di agosto, Santu Larentu, sanotte desarmette ora, ardecusso schimuttimus isteddo, schicando l'orbidimus trabicandi in chelu, la fidamus sordisizzo schin si spera ad esabberare. Intetti, promirare su chelu, e kircare custosisteddo orfughinde, anamania un usere in amistade, in su cucuru, de puntas a margine, a millimetro de esa vida, in compagnia di vino buono, un buccone e musica de calidade. Amus che il fiuto rara propone savesta desanno passato che sta andata bene e meeda. Chi si scusa di osservare su chelu, incustulò quinnido, canza luca e singhiri a orde una natura spantosa, annausa assessora a narita a sordo, oieppura amus amania un addobino in amistade, protastare su vino desumandrolisai, su sprodutto ornostos a chilometro zero, e ascoltare musica, che in su gruppo, Sand Creek, essa proposta de Gavino Murgia, grazie a sa proloco dei tetti, a subinta l'ora, a su comune dei tetti, che in sostelle scopi o desassozi astronomico nugoresu, sa zente arziada, a puntas a margine, a potiù canare, e ascoltare, sor musicista, si settane si scuro, propoder esplorare su chelu di Augusto, incirca de una meteora, pro laberare uno di Sizzu. FITUNU DESO SCUNCERTO, spruzise tausi in questi sti usardo, e che in resone, che Alessandro Mannarino, che in corde 2023, attincanta usa zenta acudiada, e totusa Sardegna, alluvire e intendere. A zese intendere istoria armeda, istoria de vemina, de rebellia, so scannavo, si poden impreare, prosiligare, prosu chidere, anna o Mannarino, aperinde su concerto, ma va a persone, schianapiusa a buona sorte, desi chisorvere, e de los impreare, proservare, chi sta focando in mare, o chi è che rugende, in una pentuma, su concerto de questo zero, er dedicato a Michela Murgia. Esista uno concerto de coro, che apposta a cantare, a ballare, su pubblico des anfiteatro, Ivan Graziani desa Lighera, insambito desa e ventichimbe, edizione desu vestiva la babula, organizzado desa cooperativa, le ragazze terribili. Un spettacolo passionale, rude, che a saboche del Mannarino, che accompagnò da esa maio, desu strumento sa cordas, e da esa spercussione, sa cantau sa vida, prosi liberare da esa tristura. di un'altra parte, che a saboche del Mannarino, Grazie.